Qualcosa tipo giocoleria, quindi dai ci sta Cioè dovrei fare tipo un numero di giocoleria o qualcosa del genere Qualcosa di figo che piace tanto Con 4 Bella ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Questa settimana sono uscito un po' in ritardo con i video Perché ho avuto un po' di casino da fare Sono dovuto andare a Roma Fare un po' di vissi, un po' di documenti Eccetera eccetera perché finalmente Il prossimo video verrà fatto dalla pioggia del Madagascar Oggi volevo vedere uno sketch log Sul clap game, clap game, clap game, clap game Quindi ragazzi buona visione Ok ragazzi andiamo a vedere un attimino un po' i tempi Poi li potete mischiare come volete Il primo è praticamente questo Boom, click, clap Boom, click, clap Boom, click, clap Boom, click, clap Il secondo invece è praticamente questo Partiamo da qua Facciamo Chest, chest Click, click, clap Ed è un 5 Chest, chest Click, click, clap Uniti Ok Il stesso movimento invece è sempre un 5 Partiamo dal basso Facciamo Boom, boom Click, click, clap Boom, boom Click, click, clap Ok E gli attacchiamo anche questo Chest, chest Click, click, clap Chest, chest, click, click Chest, chest, click, clap E quindi viene fuori Per finire poi lo chiusete come volete Io lo chiuso con Boom, boom Click E poi lo potete fare come volete Bene ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto Non mi rimane che salutarvi Ci vediamo al prossimo sketch log vlog Quello che sarà finalmente verrà fatto dal Madagascar Inizierà Life is a bitch Mi raccomando Non dimenticate di lasciare qualche commento Iscrivetevi al canale Mettete mi piace E soprattutto ditelo a tutti quanti quelli che conoscete Quelli che non conoscete Una buona scusa per attaccare bottone Con una ragazza che vi piace Dicevi Eh ma hai visto il canale di Gianni Miao Voi usatela come scusa Al massimo vi dice di no E parlate di altro Però intanto l'avete detto Detto questo Vi saluto ragazzi Alla prossima Boom baby We saluto all tra pomodoro No 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 Grazie.